Zac Brown, ancora una volta, ha attaccato la Rebel. La rivalità fra la scuderia di Walking e di Milton Keyes è diventata molto forte e sentita in questa prima parte di stagione, complice anche l'incidente fra Norris e Verstappen a Spielberg. Ma se da un lato Norris e Max, su quanto accaduto in Austria, ci hanno messo una pietra sopra, almeno per il momento, il boss della McLaren ha puntato il lito contro Horner e la Rebel, descrivendo l'ambiente Rebel come un ambiente tossico inquistare e che lui e Horner non potranno mai essere amici in questa vita. Questo fa capire come Zac Brown disprezzi così tanto Horner e la Rebel, dato che è stato proprio lo stesso Brown, a chiedere alla FIA di punire la Rebel per la questione Budget Cup 2021. E all'inizio di quest'anno è stato sempre lo stesso boss della McLaren a prendersela contro la neonata Visa Cash Up Racing Bulls, perché essendo sotto la stessa proprietà della Rebel avrebbe condiviso molte componenti del team campione del mondo in carica. La paura era che la Vicarb 01 avrebbe risalito la classifica, ma vista le prestazioni di questa macchina tutto è finito nel dimenticatoio. Conosco Christian da circa 25-30 anni, correvamo l'uno contro l'altro, direi che andavamo d'accordo. Ora credo nella trasparenza e nell'alzare la mano quando si commettono errori. Non ho mai sentito dire abbiamo sbagliato quando hanno superato il limite del Budget Cup, questo mina l'integrità di questo sport. E in effetti la Rebel non si è mai assunta realmente la colpa, anche ammettendo di essere pronta a pagarne le conseguenze. A Zach non interessa avere amici da fuori, vuole dimostrare che la McLaren è pronta a battersi, mostrando anche quella che è la sua lealtà e la sua passione per il team papaya e se vuoi vincere non puoi avere quel tipo di amicizie fra team. D'altronde bisogna ammettere come la credibilità di questo sport abbia subito grosse batoste dopo la violazione del Budget Cup da parte della Rebel. E le ore in meno da scontare in Galleria del Vento non avevano influito minimamente sul vantaggio tecnico della squadra, ma ora la musica sta cambiando. I team stanno recuperando terreno, forse un po' in ritardo colpevoli di non aver capito sin da subito come sfruttare al meglio l'effetto suolo. I dissapori fra Brown e la Rebel sono dovuti anche sicuramente all'incidente fra Norris e Verstappen in Austria, che ha danneggiato il pilota inglese privandolo di una vittoria che sembrava fattibile. Norris non fu un grosso rivale di Verstappen all'inizio di quella gara, ma poi con i problemi ai box della Rebel e una MCL38 che quando si alleggerisce diventa veloce e il degrado gomme diventa pari a zero, la lotta fu possibile e poi lo conosciamo a memoria il risultato. Norris ritirato e Max, nonostante la foratura e il cambio gomme, ha terminato al quinto posto. La colpa per Zac Brown non è stata la dura difesa di Verstappen, ma il fatto che il team continuasse a sostenere che non era colpa dell'olandese. Penso e credo che la FIA sia d'accordo che dobbiamo investire di più per avere maggiore coerenza e applicazione delle normative. Penso che avere steward part-time sia sbagliato, in quanto è un lavoro molto complesso e quindi farlo a rotazione per il livello di Formula 1 penso sia piuttosto difficile. Finché qualcuno non dice a Max che ciò è contro il regolamento, lui non saprà nulla di diverso. Perciò penso che ci siano state occasioni perse per gli steward di prendere nota. Sono deluso, sai, da un grande team come la Rebel. I loro vertici quasi lo incoraggiano in questo comportamento come si può ascoltare dalle comunicazioni radio. Tutti abbiamo la responsabilità al muretto dei box di dire ai nostri piloti cosa fare e cosa no. La battaglia fra questi due team si farà sentire per il resto della stagione e anche per il 2025 quando tutto ricomincerà da capo. Con una Mercedes ritrovata e una Ferrari con una coppia forte sulla carta ma la SF25 sarà un grosso punto di domande in futuro, in tutto ciò bisogna vedere cosa farà l'uomo che ha dato inizio all'effetto domino in Red Bull, ovvero Newy. Tutti danno per certo il suo approdo in Aston Martin ma ci crederò soltanto quando arriverà il comunicato ufficiale. McLaren sembrava in trattativa con Newy ma poi Brown ha negato tutto dicendo che non hanno bisogno dei suoi servizi. Segno di come lui creda nella sua struttura guidata da Andrea Stella in questo momento. Non abbiamo intenzione di assumere Adrian Newy. Adrian è un caro amico, è un talento straordinario con un curriculum eccezionale. Tuttavia sono molto soddisfatto della nostra squadra attuale, non potrei chiedere di meglio. Puntiamo a vincere il campionato del mondo con le persone che abbiamo già a disposizione. Sono convinto che abbiamo tutte le capacità necessarie per farcela. Una mentalità giusta perché gli ingegneri della McLaren hanno reso la MCL38 il nuovo punto di riferimento. Mentre ora Adrian Newy è in cerche di un team che gli dia maggiori responsabilità e ruoli più importanti e che voglia di lavorare a quest'uomo a 65 anni. Per questo tutti sono sicuri che Aston Martin sarà la destinazione finale. Parliamo di un team che è un cantiere aperto in fase di ricostruzione, con niente da perdere e tutto da guadagnare. Per concludere, la McLaren crede fortemente nel campionato piloti e costruttori, ma deve sistemare il modo in cui vengono scelte le proprie strategie, dato che alcune di esse hanno privato la McLaren di alcune vittorie decisive. E dovranno anche guardarsi le spalle perché con una Mercedes che ha trovato il ritmo con la sua W15 i giochi non sono ancora finiti. Grazie a tutti!